Un'espressione che hai usato, che è quella di società dello spettacolo, effettivamente il populismo appoggiandosi alla società dello spettacolo riesce non solo a falsificare i conflitti, quindi anche a creare quella dinamica piuttosto che del basso contro l'alto, del basso contro il basso, nonostante magari quelli che si avvalgano di questi strumenti populistici che fanno le barricate contro l'arrivo dei migranti, non soffrano evidentemente una crisi economica, ma siano indotti a credere che soffriranno una situazione di impoverimento a seguito dell'arrivo dei migranti. E oltre a questo c'è anche la constatazione che rispetto all'America Latina siamo in una fase diversa qua in Europa, siamo in una fase in cui non c'è espansione, non c'è distribuzione della ricchezza e di conseguenza anche la vittoria di un leader, come bene dicevi te, che prenda la sovranità dello Stato, il potere esecutivo, a cosa potrebbe portare? E allora, visto che la società dello spettacolo riesce a andare così bene d'accordo a braccetto col populismo, chiederai a Mario Pezzella, visto che si è occupato di comunicazione, di discorso politico, di società dello spettacolo per l'appunto, di illustrarci un po' come il populismo e questa dimensione siano congruenti, a partire anche da un uso smodato che gli stessi leader populistici fanno degli strumenti mediatici, parliamo di una comunicazione volatile e velocissima che passa per i social network, per la comparsa in praticamente tutti i palinsesti televisivi, interviste alla radio, uso di un certo tipo di linguaggio. Ma questo è in rapporto con quello che dicevamo prima sul significante vuoto, diciamo così, sul significante vago, cioè sulla parola d'ordine vaga, perché questo vuoto va poi riempito in qualche modo, cioè la democrazia nella sua forma storica è nata spersonalizzando il potere, mentre l'antica forma della sovranità, il re, era un'incorporazione della sovranità, cioè il suo corpo fisico, oltre a essere il corpo fisico di una creatura mortale finita, era anche l'incarnazione della sovranità per diritto divino, quindi era una persona in qualche modo sacra. Ora la democrazia nasce contestando tutte queste forme di personalizzazione del potere. Nel populismo assistiamo, e questo è un altro dei sintomi molto gravi della crisi della democrazia, a un ritorno di personalizzazione e di incorporazione del potere nel corpo fisico di una persona. Pensate soltanto all'importanza del corpo di Berlusconi, di cui siamo stati vittime succubi per almeno vent'anni. Questa attenzione spasmodica alla corporeità del sovrano, che in questo caso non è più un sovrano, ovviamente nel senso del re di diritto divino, è un fenomeno di ritorno. Diceva Marx, le cose si ripetono come farsa dopo essere state prima tragedia. Ora, se vogliamo in un senso un po' meno ridicolo, pensate anche alla, scusate se io la chiamo così, non vorrei offendere qualcuno, ma la messa in scena spettacolare, vergognosa, della morte di Giovanni Paolo II, in cui è stato lo spettacolo della corporeità sofferente, ci è stato somministrato a valanghe, perché Giovanni Paolo II di populismo se ne intendeva e come, se ne è inteso fino a morirci, cioè perfino della sua morte ha fatto uno spettacolo populista, scusate questa parentesi. Ma per dire che c'è un ritorno dell'incorporazione, cioè l'importanza del corpo sovrano, ritorna e occupa tutti i canali televisivi, giornalistici. Ora, è evidente che se si usa una parola d'ordine, abbiamo detto, vaga, giustizia, patria, vaffadei, non lo so, tutto questo, questa vaghezza deve però essere compensata da qualcosa che vago non è. E cosa c'è di meno vago e di più concreto di un corpo sovrano, che in ogni sua rughetta o capello mancante suscita, come dire, emozione, fusione, compartecipazione, eccetera, eccetera. Quindi l'arte spettacolare del populismo, ma questo era vero anche dai populismi storici del Novecento, in parte, perché in parte l'attenzione al corpo di Mussolini, non lo so, Bellocchio ha fatto un film bellissimo che si chiama Vincere, su questo tema. Cioè l'attenzione spasmodica al corpo dei dittatori è un fenomeno ovviamente precedente, il culto della personalità, la mummificazione del corpo di Lenin e poi di... Vabbè, insomma, lasciamo stare comunque il Novecento e veniamo a noi. Diciamo che ci deve essere un'occupazione permanente dello spazio immaginario da parte di un corpo molto concreto, molto fisicamente sentito e che suscita un immaginario fusionale con lui. Quindi il capo non è soltanto una figura ideale, astratta, ma è proprio la sua corporeità imposta, ripetuta, incessantemente, che porta al fenomeno dell'immedesimazione, della fusione. Ora, è vero, e qui vorrei toccare il tema del populismo di sinistra, perché Laclau in effetti cerca di distinguere... il fenomeno è questo, è lo stesso sia per i leader di sinistra che per i leader di destra, diciamo così, usando noi queste categorie che loro non usano. Però, appunto, Laclau cerca di stabilire alcune differenze. differenze, devo dire, ripetute da Re Calcati recentemente in Italia a proposito di Renzi. Re Calcati è un grande psicanalista, ma come politico, francamente, mi lascia immensamente perplesso. Allora, i due, diciamo così, distinguono un populismo dispotico-narcisista, così lo chiamano, nel caso di Re Calcati sarebbe quello di Berlusconi, cioè un padre sovrano o sceno, diciamo così, e invece un populismo fraterno-egualitario. Il populismo fraterno-egualitario sarebbe il populismo di sinistra, in qualche modo. Per Re Calcati, tra virgolette, sarebbe in Italia Renzi, che sarebbe... Un mio fratello, francamente, ma spero proprio di no. Fraterno-egualitario. Comunque, dice Laclau questa frase abbastanza significativa e un po' ridicola, peraltro, mi permetto di dirlo. Dunque, questo capo fraterno-egualitario è il padre, cioè rimane il padre, con tutta la, diciamo, la psicanalisi, la canian fluidiana dietro la proiezione sulla figura paterna del capo, dell'ideale, del padre, eccetera. Ma ha anche un fratello. Allora, cioè questo leader progressista, insomma, questo Melanchon, diciamo così, è una figura indubbiamente paterna. Dico Melanchon perché Chantal Mouffe, la compagna di Laclau, che purtroppo non è più morta recentemente, recentemente a Parigi, durante le elezioni, ha sostenuto appunto Melanchon esprimendosi chiaramente, usando queste frasi, per un populismo di sinistra. Quindi non è soltanto una questione teorica, ma è stata una posizione. Allora, Melanchon sarebbe padre, ma anche fratello. Quindi mitigherebbe questo carattere, diciamo così, osceno, ossessivo, verticale della sovranità, ponendosi sul nostro stesso livello, cioè essendo anche uno di noi, diciamo così. Quindi un altro tipo di retorica, se volete. Quindi invece di una grande distanza fra il capo e la massa, una specie di distanza superiore, sovrastante, invece qui ci sarebbe poca distanza fra il capo e i singoli membri della massa. Cioè il capo farebbe parte egli stesso del movimento. E questa è la differenza fondamentale. Nel regime dispotico il capo si eleva, diciamo così, una specie di sovranità quasi sacrale, sopra i membri della massa. Mentre nel populismo di sinistra è uno di noi, cioè fa parte del nostro stesso movimento, viene fuori dal movimento di cui noi abbiamo fatto parte, che noi abbiamo creato insieme a lui. Ora, il problema è questo, che la storia del Novecento ci insegna, ma questa potrebbe essere solo una constatazione di fatto, che si comincia molto spesso col capo fraterno-egualitario, il quale poi lentamente ha una tendenza quasi irresistibile a trasformarsi nel cosiddetto capo dispotico-narcisista. Cioè tra i due non c'è un abisso, c'è un processo di trasformazione, per cui quelli che all'inizio della carriera sono molto fraterni-egualitari e fanno parte del movimento, anche Hitler e Mussolini facevano parte di un movimento e si davano pacche nelle spalle, nelle birrerie. Ciò non impedisce che poi gradatamente questi personaggi tendano invece ad assumere un carattere un po' più inquietante. Come è successo del resto anche a Perón in Argentina, che cominciando effettivamente nel suo primo governo come fraterno-egualitario, poi nel secondo governo finanziava le squadre della morte che hanno preceduto l'arrivo della dittatura in Argentina. Quindi, intanto dovrebbe riflettere sulla quasi fatalità di questo passaggio, perché questo è un fatto storico, ma soprattutto, diciamo, se vogliamo, dietro questa cosa poi c'è un elemento anche proprio intellettualmente sbagliato, secondo me, cioè che necessariamente si attribuisce a un'organizzazione sociale la necessità di disporsi in forma gerarchica. Perché che vogliate o no, che il capo sia fraterno, o che il capo sia paterno, o che sia osceno, o che sia un brav'uomo, però sempre non viene messo in discussione che lui sta sopra e che sostanzialmente in base a questo principio del capo poi si dispone tutta la società in forma gerarchica. E poi a quel punto l'unico criterio di distinzione tra quello che dice il populista X e quello che dice il populista Y, perché abbiamo detto appunto che sì, questo populismo di sinistra poi tende a diventare so stesso in qualche misura gerarchico, a questo punto diventa una questione di efficacia. E difatti la Claucomy insiste moltissimo sulla decisione. Infatti il decisionismo è un altro elemento chiave dei movimenti populisti. Si dice che un capo di movimento populista è efficiente se è capace di decidere. Da decidere che cosa? Questo è più difficile. Macron dice appunto che bisogna decidere a favore degli oppressi senza specificare di quali oppressi parla. Cioè rimane una decisione un po' come dire, sospesa nel vuoto. Alla fine possiamo tradurla la decisione più efficace è quella che costruisce un ordine sociale il più coeso possibile. Ma questo suppone una cosa che cioè il termine, il concetto di ordine sia un valore. Allora questo discorso che sembrerebbe tutto oggettivo, tutto neutro, tutto così politicamente oggettivo, in realtà poi un valore ce l'ha e cioè l'ordine gerarchico del sociale è assunto come valore in quanto tale. Chi riesce a stabilirlo meglio è bravo, è il populista vincente. Chi invece lo stabilisce in maniera più confusa perde nella competizione tra i vari populismi. Ma quello che differenzia la sinistra da qualsiasi tipo di populismo se a sinistra vogliamo darci ancora un termine è che viene rifiutato proprio questo criterio cioè che il valore massimo sia l'ordine gerarchico sociale perché per la sinistra anche il disordine può essere un valore in alcuni casi. Lo dicevano persone importanti lo dicevano persone molto importanti che non so neanche a citare. Comunque e con questo vorrei chiudo questa parte qui perché poi magari concluderemo su questo quali perché mi sembra il tema che lui ha posto che hanno posto tutti e due loro sia fondamentale cioè a un certo punto che cosa facciamo però in alternativa a questo che ci mettiamo possiamo mica tornare indietro possiamo mica tornare indietro ai partiti di vecchio stampo e però d'altra parte non possiamo completamente fare a meno di istituzioni della politica o del politico quindi quale carattere devono avere queste nuove istituzioni queste istituzioni che possiamo solo utopicamente cominciare a pensare quali esperienze nella storia di due secoli del movimento operaio della sinistra europea magari minoritarie ci danno qualche suggerimento sul modo in cui potrebbe funzionare un'organizzazione sociale in modo non populistico gerarchico e però anche non ritornando a una forma di democrazia puramente rappresentativa che purtroppo o per fortuna non lo so è in disfacimento questo magari è l'ultimo tema da poter affrontare se mai fosse possibile affrontarlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti